Ehi ragazzi, come va? Io sono Fieri Niki E io sono Stef, e che sei Gigi a crema di The Sims 4 E andiamo subito a salutare i nostri 6 eroi del giorno Che per oggi sono Damiano, Sabrina, Nick C, Dragon Channel, Kitty Cat e Andrea Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Vi ricordiamo che anche nell'outro saranno salutati altri 6 eroi E siamo prontissimi per iniziare questa puntata di The Sims 4 Sai cosa andremo a fare? Che cosa? Modificheremo le stanze Ok E proveremo qualche cosettina che ci hanno consigliato Non ti dico ancora nulla perché voglio che sia una sorpresa Facciamo tutte le cose una per volta E come ultima li inseriremo anche nei club Ne abbiamo parlato lo scorso episodio E quindi per la prima volta noi proveremo i club Perché sì, anche noi non sappiamo come funzionano Esattamente, non vedo l'ora Ma prima di tutto andremo a modificare la stanza di Credo che avete già capito chi Tina e Beatrice Perché è quella che è stata votata di più E non vedo l'ora Hai già scelto un colore della parete che è bellissimo Lo so, lo so Sono davvero brava, guarda Almeno una cosa la so fare Arredare Si fa i complimenti da sola Ecco cosa è brava Sì, no, 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 no Ti voglio dire Ok Ti voglio dire Che secondo me per queste stanze Ho scelto proprio l'arredamento perfetto Sia per Tina che Beatrice Sono davvero davvero soddisfatta Sei proprio al 100% Sì, secondo me saranno felicissime Ho capito E quindi iniziamo Allora, ovviamente penso che dei colori riconoscerai già Che cos'è di una e che cos'è di una Ok, credo che non sarà un problema farlo Allora, voglio partire da questa sedia Molto bellina Come vai dalla sedia? Perché della sedia? Perché mi piace questa sedia Ok, mi piace moltissimo Lo devo dire io dovevo mettere Sì, grazie Qui nell'angolo Secondo me mi piace Guarda Così Esatto No, girata magari verso un'altra direzione Così Perfetto Più attaccata a questo divisorio Chiamiamolo così Così Sì, mi piace Ti piace? Fammi vedere Ti farai notare anche una cosa Ok Hai notato che in terra c'è qualcosa di particolare? Sì, ha cercato di far finta di nulla per non far fare una figuraccia a Tina Ma fa davvero un po' schifo No, lascio sempre i vestiti in giro È molto disordinata Io li ho lasciati apposta Sai perché? Perché così facciamo vedere quanto è una brutta persona Non glieli faccio Non glieli raccolgo io Continui a odiarla Bellini questi Questi sono molto carini Sì, anche le scarpe Capisco Vestiti adattissimi a Tina Ce li vedo proprio per lei Ce li vedo proprio E adesso Guarda il letto Che bello Secondo te le piacerà? Secondo te le piacerà? Mi sembra molto femminile Molto da ragazza come Tina Proprio È molto bello Questo è proprio bello Elegante Mi piace molto Vedi che poi hai abbinato le strisce come la parete Guarda Questo è un tocco di classe Ci vede che sei arredare nel modo giusto Questo è per dimostrarle a Tina Che io sono migliore di lei E che ho più buon gusto di lei Ok, va bene Spero che lo capirà Da questo tuo bellissimo messaggio Passiamo adesso alla stanza di Beatrice Ragazzi Qua c'è davvero il degrado Secondo me Non è colpa mia Ci sono giusto due fiori No, sai Li ho messi anche lì sopra Secondo me questi Li apprezzerà tantissimo Li ho messi sopra le tende Perché Allora, ti spiego Ti spiego Praticamente non me li faceva mettere da soli Ok Io non so perché non li potevo mettere sulla finestra Sui fiori Volevo fare proprio delle tende a cascata di fiori Ok Era un'idea bellissima Questa era un'idea bellissima Però non me li faceva mettere da soli Se non c'erano le tende sotto Capito? Quindi ho deciso di metterli sopra le tende Spero che li apprezzerà comunque Perché penso che siano Cioè non siano molto contemplati Per essere tende a fiore Capito? Quindi Ok Ho cercato di sfruttare un bug Come sempre Apprezzo tantissimo la parete con i fiori Ok Ma io ho un problema da porti Ok Che con tutti questi fiori Ho paura che si formeranno gli insetti E io ho paura Che Tina Appena veda un insetto Ma questo non è un problema nostro Lo spiace chi sul muro E se Beatrice la vede Sai è poliziotta Alla pistola Potrebbe andare qualcosa storto Non lo so Litigano così È una bella cosa Le vorrei vedere fare una bella rissa Prima o poi la provocheremo Una rissa È pericoloso È pericoloso No lo devi mettere di così Vedi che c'è il tappeto Ti ho lasciato la direzione del letto Così Giusto? Bravo Bravo Sì 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 Molto carino Mi piace molto Anche quello delle foglioline Molto ambientalista Secondo me Molto ambientalista Poi abbiamo un bellissimo armadio Lo devi mettere più di così Perché poi c'è la lampada Che va a fianco Così Guarda io so già tutto Sono tutto a memoria ovviamente È così Sì guarda anche la lampada Fai notare Questo è carinissimo comunque Questo a priori è troppo carino È molto vintage Con questo stile un po' consumato Esatto L'ho apprezzato davvero tanto Ho detto secondo me a Beatrice Piacerà davvero tanto Poi abbiamo questi Che non ho la minima idea Di dove metterli qua Sì puoi metterlo là Ok Questo sai che cos'è? Ahà È un set da te e di piante Non so perché veniva chiamato te Io non vedo te però Comunque Vedi questa qua è una tazza da te Lo vuoi lasciare così? Vuoi cambiare anche i pavimenti? Eh non lo so Perché se vedi un po' troppo nero Capito? Non rappresenta Le anime di questi bellissimi Allora Io i pavimenti Per ora Anche nella stanza che abbiamo fatto Lo scorso episodio L'ho lasciato esattamente Come era Ho notato infatti Come era perché Però quando puoi fare una cosa del genere Oh mio dio Non l'avevo visto No ti dicevo Siccome ho esagerato molto Nell'arredamento di tutte e quattro Le stanze che per ora abbiamo fatto Ho detto magari lasciamo il pavimento sobrio Ma vedo che tu lo stai già cambiando Esatto Volevo fare qualcosa di un po' elegante Ma roviniamo tutto Non è rovinare Dai guarda che figo Guarda che bellino Non è più carino di prima È più colorata È molto più allegra Guarda Ma dove te lo sei tutto fuori Non lo so L'ho trovato a casaccio A sto punto A sto punto Cambiamo il pavimento anche a Tina Perché secondo me Poi sarà gelosa Io ho cliccato sui pavimenti Poi ho visto qua Quello con i fiorellini Ho fatto vediamo Ho visto questo Mi sono illuminato subito È bellissimo Invece a quelle dei ragazzi Lascerei il pavimento nero Mi piaceva l'abbinamento Mi piace molto Ok sì 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 Ci può stare Toglie gli occhi ragazzi Toglie gli occhi Abbiamo un po' esagerato col rosa Ma l'importante è che Tina Sia felice Ti farei notare una cosa Che noi abbiamo iniziato Con una casa bellissima Super elegante E l'abbiamo rovinata Ma a me sinceramente Piace di più Perché era troppo spoglia Priva di emozioni Di sentimenti Invece guarda adesso Sembra tipo Sono case neutre Queste Uno poi le arreda Un po' come vuole Esatto Io sono molto felice Delle stanze Perché secondo me Rispecchiano proprio La personalità Delle nostre cavie Gli dobbiamo Assegnare dei club Io sono davvero curiosa Perché anche questi Non li ho ancora frugati bene Quindi voglio vedere Un pochettino Come funzionerà Abbiamo chiesto Nello scorso episodio Se ti ricordi Di metterli O nel club Che va bene Con la loro personalità Oppure in quello opposto Diciamo che i voti Sono stati Abbastanza pari Sì Sono stati abbastanza La pari Ma diciamo che La decisione L'abbiamo presa In base a come avete argomentato Ci avete appunto Detto in molti No ragazzi Dategli il club Che gli piace Perché già fanno Un lavoro che non gli piace Se in più Vanno anche in un club Che non sopportano Rischiate di farli ammazzare Dalla tristezza E mi sembra che abbiano ragione Capito Dalle almeno qualche oretta Di felicità Dove sono con i loro simili Io direi Direi che in tutti questi episodi Li abbiamo torturati Abbastanza Li abbiamo messi alla prova In varie occasioni Abbiamo fatto entrare Una nuova cavia Ce ne saranno tante altre Esatto Abbiamo fatto davvero tante cose E tante ne stiamo pensando Questo sottolineamolo Esattamente Quindi direi Dai che almeno nel club Li mettiamo In quello che va bene Per loro Ok E vediamo come si comportano Perché anche lì Non sai se poi Potranno andare d'accordo Anche perché comunque I club sono sempre pensati Da noi Quindi vedremo un po' Come va a finire Esattamente Iniziamo Assolutamente sì Ok Allora Ti sei segnata Dove devono entrare tutti Ho segnato tutto Per non sbagliare Per non dimenticarmi niente Perché qua devo essere professionale E fare le cose giuste Bravissima Allora Eccoci qua Tina è facile però Tina non ho bisogno Neanche del foglio Guarda lo butto via Non ho bisogno Addirittura E quindi Tina entrerà nel club Dei modelli Allora ti spiego un pochettino Come funziona Ok esatto Ho controllato solamente Questa cosa Ok Allora vedi che in certi club Dice entra Non idoneo O richiede un invito Ok Allora se tu clicchi entra Ti fa entrare in automatico Tu fai parte del club E sei a posto Subito Perfetto a posto Non idoneo Se vedi dobbiamo avere Delle caratteristiche particolari Che in quel caso non ha Esatto ovviamente Tina non ce li ha Figuriamoci Quindi delle caratteristiche particolari Per entrare Perché ci sono anche i club esclusivi E richiedi un invito E richiedi un invito Praticamente tu richiedi un invito Vai a un loro raduno Ok Parli un pochettino E chiedi di essere accettato Quindi se lì poi ti accettano Tu entri a far parte del club Diciamo che ti fanno la prova del club Esatto Sì 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 Come nei film americani Devi andare nel raduno Mi piace E fare le cose che ovviamente a loro vanno bene E dimostrare di essere all'altezza Ok Comunque Tina modelli Modelli assolutamente Quindi dobbiamo richiedere l'invito Adesso vedi la chiamano La chiamano Andiamo Andiamo a vedere questo Dai Ok andiamo con Tina Vediamo Ti mandano subito l'invito Ti dicono vieni al raduno E devi poi chiedere Adesso fa pienza pulita E secondo me stende tutti Diventa il capo del club in due giorni Secondo me vedrai che Butta via il fondatore Diventa lei Non si sa come Non si sa come Comunque sono curiosa di vedere Come sarà questo raduno Inizio del raduno del club Tina dovrebbe fare una buona impressione Ai membri del club modelli Che stanno ottenendo un raduno Ok Dovrebbe socializzare con loro E se tutto va bene Chiedere di entrare nel club modelli Vedi esattamente quello che ti ho detto poco fa Devi meritarti diciamo L'entrata nel club Perfetto Mettila in costume Perché ho noto che è una festa in piscina Sono tutti vestiti Bisogna assolutamente cambiarle abito Dov'è? Costume da bagno Non so se vi ricordate come vestita Tina Col costume da bagno Ma guardate che bella Sembra già una modella Sembra già una modella Guarda Scusa È già più bella di tutte queste Scusa ma non c'è proprio paragone Dai Proprio 10 a 0 amica mia Puoi tornare anche a casa Dai 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 Allora Ok dimmi Con chi iniziamo a parlare? Dobbiamo parlare con qualcuno Allora Fai attenzione Non ci credo Di nuovo Di nuovo La perseguita Io voglio fare una scommessa Scommettiamo Che farà parte di tutti i club Dici che ovunque Sì 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 Sempre comunque Che poi era anche nel ristorante Di Diana e Stere Niki Appena l'abbiamo nominato Guarda È andato subito a nascondersi qua Per non farsi vedere Ti dicevo ti ricordi che era anche nel ristorante Sì sì Ma lo ricordo benissimo È stato uno dei primi clienti A entrare nel ristorante Qui a tante Secondo me dovremmo farlo fuori In qualche modo Perché inizia a farmi paura Sei la spia di testa Sei la spia di testa Vero Dici che ci spia in tutte le serie Dici che Guarda guarda sta scappando Sta scappando Secondo me gli hai fatto qualche domanda Un po' così Capito Cracco Ciao Ma che ci fai? Ma perché anche Cracco ovunque? Me lo spieghi Comunque Ma te li ti la maglietta È ubriaco Ha bevuto qualcosa Ma l'hai visto che è entrato in piscina con l'infradito? Io non ti vorrei dire Ma allora Tina deve parlare con qualche membro del club Riuscire Che sono scomparsi? A farselo amico Ti volevo dire E chiedere di entrare Su 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 Si sono nascosti Vedi No andiamo nello spoglietto io femminile Che fanno? Con chi parliamo secondo te? Ma che fanno questi? Cioè sei vestito in costume da bagno E vai in una stanza Lasciali perdere Allora I modelli Secondo me Non brillano di intelligenza Ok? Quindi Per quello li ritrovi là Si sono chiuse la chiave dentro una porta Allora proviamo a bussare in modo segreto Che ti devo dire Sì che cavolo è il bussare in modo segreto Vediamo Vai Tina Ce la puoi fare Tina Tu queste cose le conosci È un codice È un codice È un codice Non ha funzionato però secondo me Perché non gli hanno detto il modo giusto Non è consentito a varcare la porta No dobbiamo cercare qualche altro membro Perché se questi rimangono qua tu non ci puoi parlare Vedi che questa è la stella esclusiva Ce l'ho fatta L'hai scassinata Scassinato Scassinato Tina Tina sa fare queste cose Non me gliel'ha insegnato Giulia Non me gliel'ha insegnato Giulia Guarda Allora Allora Ascoltami un attimo Ti stavo spiegando che anche quelli che hanno il logo del club in testa Vuol dire che sono membri Le farfalline Tu puoi chiedere il permesso ovviamente solo a un membro del club Non lo puoi chiedere tipo a cracco di entrare nel club Ok Capito? Quindi Chi ci vogliamo fare amico? Questa ragazza qua Sofia Oddio È la figlia di Di quello lì con cui ci ha provato Tina Sì allora lei Allora lei Così poi magari cerca di riarrivare al padre Esatto Bravissima Delle cose incontrollabili Bravissima Mi hai capito subito Continuiamo a dare Ma questi non si chiedono come accidenti ha fatto Tina a entrare Non si fanno delle domande Era la prima prova Era la prova del club Capito? Ho capito che ti mettono alla prova come le confraternite dei collegi americani Guarda poi Tina con gli occhiali da sole dai su ragazzi Neanche se le va gli occhiali da sole Cioè è una modella perfetta ragazzi Non c'è paragone dovrebbe essere già capo del club No 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 ci guadagnano solo l'ora ad averla come membro del club guarda Esattamente Allora adesso la duriamo un pochettino Ma hai visto che possiamo anche convincere le persone a lasciare il club? Stai scherzando? Ok secondo me siamo già abbastanza amici Quindi proviamo Ho visto che poi anche lei ha prestato Tina Mi sembrano molto simili di carattere Penso che possano andare d'accordo Quindi dai ci farà entrare per forza Non mi stupisce Ok ci abbiamo fatta Ok ci siamo Ecco 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 qua Siamo entrati Facciamo parte del club Passa avanti questo sotto il tutorial Un po' le cose te le ho già spiegate io Ok ma ci sono cose strane Allora vedi qua ci sono quattro persone che sono questi qua Ok Allora la coroncina è sicuramente il capo Vedi? Chi è? Quella coroncina Questa ragazza seduta No non è questa È questa in piedi È questa in piedi Questa Secondo me è quella che ha affondato il club Giusto Aspetta Guarda la coroncina Aspetta Perché ha cambiato il colore? Perché ha cambiato il colore del costume di Tina? Cosa è successo? Come ha fatto? Perché quella lì è entrata nell'armadio? Perché è dove ti cambi Capite? L'armadio perché Cioè se io faccio prova un nuovo arbitro costume da bagno Io entro nell'armadio? Sì ma perché ha cambiato il colore del suo costume? Non capisco Beh magari voleva fare qualche nuova Capita C'è un bug anche questo Io non ci credo Dici? Dici no Secondo me era Era nero come ha fatto diventare rosa Si è schiarito Ho forse cambiato il colore una volta che entri nel club Ho pensato anche io a quello Potrebbe essere quello Oh mio Dio Ma cosa hai fatto Tina? Non è un costume da bagno Sembra un clown Ma Non le piace Quale la faccia che ha fatto? L'hai vista? Cioè è arrabbiatissima E sta andando a ricambiarse Tutto da sola Oh mio Dio che accidenti Io mi sono messa Non posso Non posso farmi vedere in queste condizioni In realtà subito Comunque vedi Le ha coroncine anche qui Così è molto semplice È bellino questo C'è azzeccato Tina Guardala Guadagnere i punti nel club Svolgendo attività del club Durante un raduno L'indicatore del club diventerà poi verde Per segnalarti lo svolgimento Di un'attività del club Esatto Quindi se tipo Noi dobbiamo Bere un caffè Provare degli abiti Lo stiamo già facendo Lo stiamo già facendo Usa Integrazioni perfide Con membri del club Rinnegati Giulia farà parte dei rinnegati Te lo inizio a dire Quindi possiamo usare Le interazioni perfide con lei Che si è messa Cosa ti sei messa Tina? Allora Lasciamola fare ok? Ok Facciamo finta di niente Ignoramola Capito? Ok Potremmo usare le azioni Con Giulia Scusami Sta facendo una fo Vabbè dai Oggi lasciamo perdere Ha cambiato di nuovo i colori Dei vestiti Ma ti ricordi che la maglietta Era verde? Sì sì È la giornata di Tina È la giornata di Tina Non ce l'ha più vestita E queste suppongo Che se fai le attività vietate Vieni buttato fuori Però non ce ne sono Quindi questo è un club Abbastanza tranquillo Anche questa qui Si sta costantemente cambiando Sono impazziti Allora Non ti deve interessare Quello che è fattina A noi interessano Solo i club Ok Quindi ok Abbiamo capito come funzionano Vedi che abbiamo anche dei punti Qua compra i vantaggi del club Mettili Allora Oh mio dio Vi dico soltanto Che con i punti Possiamo comprare Dei saluti speciali Per fare Capito più amicizia Nel club Certo È meraviglioso Scorri un attimo giù Scorri un attimo giù Guardate quanti sono Facciamo vedere cosa tutto Cioè penso che ci divertiremo Molto con i club Penso che ci divertiremo Ma questo qui È il braccialetto Dell'amicizia Ma ancora chi sono I tuoi veri amici Vedi Giusto per sottolineare Che Tina Sono amici speciali Questo invece Per sbloccare appunto Quello che abbiamo messo Da Federico Lo dovranno avere Ognuno nella propria stanza Del proprio club Dovranno sbloccarlo tutti Sarà magnifico E questa cos'è Usa questa porta Per creare un ritrovo del club E tenere fuori I club rivali Quella porta che c'era prima Quella porta che c'era prima Bellissimo La possiamo avere anche in casa E fare magari i raduni in casa Invitare i nostri Fantastico I nostri amici del club È bellissimo Sono felicissima Questa cosa del club Mi piace davvero tantissimo Ok Siamo tornati a casa ragazzi Mettiamo il club A tutte le cavie Perché assolutamente Va fatto È troppo bellino Non vedo E poi nei prossimi episodi Penso che li guarderemo Uno ad uno In tutti i club Perché mi sembra Una cosa carinissima Voglio provare a fare Le attività del club Che sono tutte cose particolari Voglio provare a farne qualcuna Allora Per Beatrice C'è il club perfetto De lei Gnomi da giardino Ragazzi È perfetto Calza a pennello Per Beatrice E infatti vedi che lei Ci può entrare Subito proprio Ma guarda chi sono C'è Bjorn C'è Bjorn Oh mio Dio E c'è anche un bambino Guarda Beatrice Sarà felicissima Bambini Natura Penso che sarà Le piacerà un sacco E guarda le attività Pesca Cura il giardino E cerca rane Io ce la vedo troppo Nei laghi A cercare rane Nel prossimo episodio Lo faremo assolutamente La mandiamo a cercare rane Adesso Luca La tocca C'è passata davanti Vediamo un pochettino In che club Deve entrare lui Baldori House Questo qua Ok Per Giulia Ovviamente rinnegati Rinnegati Assolutamente Che sono il contrario Dei modelli Sono proprio Due club Uno all'opposto dell'altro Quindi sempre Continuerà lo scontro Tina Giulia Che mi sembra Più che giusto Sì perché poi ti ricordi Le azioni Deve insultare Giulia Quindi è bellissimo Partiranno le peggio cose Ragazzi È bellissimo Metterle opere Scopieranno delle guerre Tra club Dentro questa casa Sarà davvero Un casino incredibile Ed andiamo Con Craco Quello di Craco Anche per lui C'è il club Apposito Che sarebbe Creme della creme Vedi anche lui Ovviamente Essendo un cuoco rinomato Ha già requisiti Ma proprio Per poter entrare A lui lo fanno capo In due giorni Secondo me Guarda qua Mixa Bevande da bar Cucina Mangia Mi sembra giusto E bevi bevande da bar Bellissimo Ovviamente Sono tutte cose inerenti Secondo me Questo cavalieri della siepe Adatto a lui Guarda Noi pro di cavalieri Non serviamo alcun padrone Ma siamo dediti A errare per gli ameni Giardini della nostra magione Ma che cos'è Mi è sembrato Una cosa diciamo Molto gioco di ruolo Capito Una cosa molto particolare Guarda le attività Vaga nel labirinto E gioca a scacchi C'è qualcosa del genere Sì aspetta Vedi Forti dei forti E anche lui ovviamente Ovviamente Proprio A mani basse Facilissimo ragazzi Vediamo le attività Nuotare E allenarsi Guarda Secondo me Riccardo Sarà felicissimo Guarda che tamarri Guarda questo Marcus Resta qua sulla soletta Poverina No No Faremo una cosa bellissima Ok Perché non esistono solo I club proposti dal gioco Ma se ne può creare Uno a nostro piacimento Quindi a LIA Faremo un club Perfetto per LIA Ah ti voglio dire anche una cosa Sì C'era anche il club Lega degli avventurieri In cui si gioca con i bambini Ok All'inizio mi sembrava perfetto per lei Ma puoi essere solo bambino Non possono essere gli adulti Poverina Io ce l'avrei vista bene a giocare con bambini E un insulto per LIA Poveretta Soprattutto dire Barzelletta Gli avrebbe resi felici E' adolescente inside Quindi dentro di sé Capito Non l'ho voluta Purtroppo quindi creeremo il club Perfetto Ok E ovviamente nei commenti ci potete scrivere Sia il tipo di club Sia il nome Perché sapete che la fantasia Per i nomi dei club A noi manca un pochettino Come sempre Quindi la domanda di oggi che vi facciamo Ho detto che ve ne facciamo sempre È Bellino la domanda di oggi Sì Mi piace Mi piace Rispondete scrivendo prima Hashtag La domanda di oggi E poi Date la risposta Te lo sto inventando adesso Mi piace tantissimo È una figata Mi piace Grazie Era un complimento No Ok Dicevo La domanda di oggi è Quale è il tipo di club Adatto per LIA Dateci dei consigli E come si chiamerà L'hanno capito Non c'è bisogno di ripeto No perché ho paura Perché non abbiamo proprio Fantasia con i nomi Ok ci fermiamo così Quindi nel prossimo episodio Creeremo il club di LIA Andremo Anche perché A LIA non abbiamo ancora Dato molto spazio Non l'abbiamo Né osservata Lavoro Né niente Quindi questo è il suo momento E col club E se facessimo una giornata Speciale di LIA Sentite un attimo Questa si chiama La triplet Ok Andiamo Oggi ne inventiamo Una dopo l'altra Allora creiamo Il suo club Andiamo a vedere Il suo lavoro E facciamo la sua stanza Che ti ricordi È criminale Il suo lavoro Eh Vi piace La tripletta per LIA È carino La domanda di oggi Si raddoppia La 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 Aspetta Ti dicevo LIA alla fine Poverina Vorrebbe solo integrarsi Noi ancora Noi ancora Non le abbiamo Dato spazio Mi sembra Un po' L'ingiustizia Anche secondo me Comunque Prima di finire Il video Ovviamente Andiamo a salutare Gli altri nostri Sei eroi del giorno Che per oggi sono Luxor 10 Anna Mini Res Messi Giuseppe Carlotta E Alessio Ciao ragazzi Grazie mille Per la condivisione Bene che il video Fisce così Se vi è piaciuto Lasciateci un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 ciao